Ciao a tutti, sono Federica e questo è l'inizio di un nuovo video. Oggi ci troviamo a Bergamo, nel mio studio. Essendo oggi il 31, colgo l'occasione per fare tantissimi auguri a tutti voi che il 2018 possa essere un anno fantastico e pieno di emozioni. Scusate il mio super raffreddore, ma è un periodo dell'anno in fausto. Lo inaugurerò probabilmente con una tisana al paracetamolo. Invece del consueto video di viaggio che siamo soliti pubblicare la domenica, oggi quello che vorrei fare è condividere con voi un po' di pensieri, impressioni, quello che è stato un anno veramente fantastico, il 2017. È effettivamente il primo anno che ci cimentiamo in maniera più strutturata con i video ed è il primo anno che ci occupiamo di travel. Quindi per noi il riscontro è stato assolutamente fantastico. Siete stati tantissimi a seguire le nostre avventure, in particolare su Instagram, e per quello ci tenevo a ringraziare tutte quelle persone che ogni giorno guardano quello che facciamo, scrivono, mi chiedono consigli, pareri e danno un valore al nostro lavoro. Grazie mille. Quest'anno abbiamo fatto 22 viaggi. Sono stati dei viaggi fantastici, dalle Maldive fino al Portogallo, attraversando la Russia, dal confine col Kazakistan e arrivando fino a Mosca. Ci siamo persi nelle isole dell'arcipelago greco, siamo stati a Belidorm dove abbiamo fatto il bagno con i Leoni Marini, siamo stati a Dubai dove abbiamo sorvolato il deserto su una mongolfiera, abbiamo mangiato un sacco di cibi tipici, abbiamo conosciuto tantissime persone provenienti da ogni parte del mondo e ogni volta confrontarsi con queste realtà è stata un'emozione unica. Quindi chiudo il 2017 con tantissimi meravigliosi ricordi. Ci auguriamo quindi che il 2018 possa essere altrettanto ricco di persone, ricco di viaggi e ricco di esperienze. Ci tengo a ringraziare ovviamente tutte le persone che ogni giorno guardano i nostri video, tutte le persone che ogni giorno mettono like agli scatti su Instagram, ma soprattutto ci tengo a ringraziare anche tutte quelle realtà che credono nel nostro lavoro e che ci permettono di fare questi viaggi meravigliosi. Ci vediamo quindi settimana prossima, iniziamo il 2018 con il video di Dubai, ci sono un sacco di cose interessanti da vedere, sono sicura che vi piacerà. Ci vediamo l'anno prossimo! Non volevo fare dal lice del video!